L'ultimo episodio è quello di un medico di famiglia di Giuliano in provincia di Napoli preso a calci e pugni da un paziente per un certificato medico. Sette giorni fa poi un ginecologo ha aggredito e ferito nel policlinico della seconda università di Napoli dai parenti di un neonato che aveva avuto una crisi respiratoria. L'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri di Napoli e provincia ha così promosso un incontro per dire basta le violenze contro i camici bianchi con la partecipazione delle scuole della prefettura. Il presidente Bruno Zuccarelli. Sette medici si dimettono ogni giorno dal Servizio Sanitario Nazionale tra poco non ci saranno più medici e più infermieri. I cittadini questo lo devono sapere, quindi un processo di repressione e di controllo però anche un processo formativo e quindi oggi l'incontro con le scuole e con oltre 150 ragazzi per partire dal basso ed educare i giovani a cercare non di rispettare il proprio medico ma di prendersi cura del proprio medico così come il medico si prende cura dei cittadini. Tra i relatori il vicepresidente del Senato Maria Domenica Castellone. Molto è stato fatto in questi anni perché noi nel 2020 abbiamo approvato una legge proprio per le aggressioni al personale sanitario e grazie a un emendamento che all'epoca era un emendamento proprio a mia firma noi abbiamo fatto in modo che ci fosse la procedibilità d'ufficio perché quello che succede spesso è che il personale sanitario aggredito neppure denuncia queste violenze. Il ricordo ancora molto vivo nella mente della dottoressa Ornella Laghezza è quello di un intervento a bordo dell'ambulanza del 118. L'aggressione è accaduta perché il marito fondamentalmente quella persona che poi avevamo trovato in stato di agitazione era preoccupato per le condizioni di salute della moglie. Dalla tasca prese questa pistola, la teneva nelle mani non avemmo nessun tipo di aggressione fisica e neanche verbale per la verità, anzi nei miei confronti era gentile fatto sta che continuava a tenere questa pistola nelle mani dicendo se succede qualcosa a mia moglie, se succede qualcosa a mia moglie. Anche nel racconto di Alfredo Scarpa, medico di famiglia oggi in pensione, c'è un vissuto carico di ansia e preoccupazioni. Nel mio ambulatorio veniva frequentemente un giovane 30-35enne che non lavorava a Napoli, lavorava in quel periodo fuori alle poste mi pare in Lombardia eccetera. Lui quindi chiedeva periodicamente dei certificati di malattia per non probabilmente andare sul posto di lavoro. Io avevo il mio computer portatile sulla scrivania, me lo lancio addosso però la cosa più grave non succede adesso, succede la sera di quello stesso giorno perché una citofonata, io abito in zona là a Piazza Cavour una citofonata alla mia abitazione, risponde mia moglie chiedono di me, mia moglie dice che io non ci sono e loro dicono dite al dottore che noi conosciamo perfettamente dove abita e gli orari che lui fa. Piazza Cavour